I presidenti di Confagricoltura, Alessandro e Luca Brondelli di Brondello, di AMPA, Associazione Pensionati di Confagricoltura Maria Daville, socia di senior l'età della saggezza, la ONLUS che si occupa di svolgere attività nei campi dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della tutela dei diritti civili, hanno consegnato un assegno di 4.700 euro al Comitato di Alessandria della Croce Rossa. Tutti gli anni abbiamo dei fondi che possiamo donare sul territorio. Quest'anno, durante questa epidemia terribile che ha colpito il nostro paese, gli agricoltori hanno continuato a lavorare, non si sono mai fermati, ma assieme a noi tutti i volontari come la Croce Rossa lavoravano ancora di più e in condizioni ancora più difficili per aiutare chi di noi era veramente in difficoltà. Quindi abbiamo pensato che potesse essere utile quest'anno fare un'offerta alla Croce Rossa. Il nostro 5 per 1000 che viene dato al patronato, la cosa importante è che viene tutti gli anni spesa data nel territorio della provincia di Alessandria. In tutti i modi quest'anno abbiamo pensato alla Croce Rossa perché in questo periodo è difficile. Bisogna ringraziarli enormemente e soprattutto i volontari che sono davvero da fare un applauso enorme perché non si sono tirati mai indietro. La somma versata sarà impiegata per l'acquisto di 4 defibrillatori semiautomatici per nuove ambulanze e l'automedica. Un sentito ringraziamento è giunto da parte del Presidente della Croce Rossa, Comitato di Alessandria Marco Bologna. Il futuro sarà certamente un futuro con un'azione di impegno, di responsabilità e di controllo del territorio. Non possiamo abbassare la guardia e per noi questa donazione è l'incoraggiamento migliore. Per noi è uno stimolo in più a continuare a lavorare per tutti.